L'altra organizzazione è Armadilla, che ha gestito più direttamente il coordinamento dei lavori insieme al personale dei municipi. Un grande grazie va a Matteo Pasquini, a Anna Ripa di Meana che hanno lavorato, alla presidente di Armadilla che è Paola D'Angelo che in questo momento è a Roma e che porta i suoi saluti a tutti quanti e do la parola al coordinatore regionale di Armadilla Giorgio Squadrani che ha collaborato alla direzione dei lavori. Giorgio. Buongiorno a tutti. Anzitutto scusate perché ho la voce più bassa Soprattutto Lara, scusate Sono veramente contento di essere qui Non solo perché abbiamo insieme terminato un progetto che secondo me è importante Ma perché grazie a questo progetto Ma perché grazie a questo progetto Armadilla CTM E io personalmente Ho avuto il piacere di conoscere nuovi amici Che ringrazierò fra poco E prima di tutto mi corre l'obbligo sono Di presentare le scuose dell'ambasciata d'Italia e della cooperazione italiana Che purtroppo non possono essere qui oggi per problemi contingenti e imprevisti Ma anche loro sono molto felici del risultato di questo progetto E vogliono presentare i loro migliori saluti a tutte le comunità della zona Per la straordinaria collaborazione nella ottenere questi risultati che rimangono nel tempo La cooperazione italiana da sempre ha lavorato in Libano in collaborazione con tutti gli attori libanesi E tutti noi come italiani speriamo per lungo tempo di poter continuare insieme a lavorare in questo modo Armadilla è qui Grazie anche a CTM Ha potuto sviluppare questo progetto E speriamo che ce ne possono essere molti altri Nello stesso spirito di la mente di non solo collaborazione ma anche amicizia E a questo proposito Oltre a ringraziare molto Veramente molto lo staff di Armadilla Più giovane come Matteo Pasquini e Anna Ripa di Miliana Ringraziare tutti voi e tutte le municipalità per la splendida collaborazione Vorrei permettetemi due ringraziamenti particolari Uno per certo a Fadi Grazie veramente Perché senza di lui difficilmente saremmo riusciti a fare qualcosa E sicuramente a Mohamed E sicuramente a Mohamed Ingeniere Che è stato splendido non solo nel seguire i lavori tecnici ma anche nell'aiutare Le organizzazioni a risolvere ogni tipo di problema burocratico amministrativo E lo ringrazio particolarmente perché è riuscito anche a gestire la nostra presidente Paola D'Angelo Che è una persona abbastanza difficile a volte con cui lavorare No, su questo scherzo Le arm bimsa Che è una persona abbastanza difficile a volte con cui lavorare